Non possiamo aspettare che le cose si assestino. Se non lo facciamo adesso, saremo costretti ad aspettare altri 50 anni almeno. Presidente Barrientos, è Che Guevara a guidare la guerriglia? Passi, prego. Grazie. Lo dirò una volta sola. Che Guevara non è qui in Bolivia. Kamba. Ramon. Voi lo sapete chi è quell'uomo? Quell'uomo è Che Guevara. Io sarò al fianco di quelli che resteranno fino alla vittoria. Forse non c'è posto per lei in Bolivia. Sì, forse. Ma può anche darsi che il nostro rumore sveglierà questo popolo. Viva l'esercito di liberazione nazionale! Io sono qui e resterò qui fino alla morte. Viva la versione. Viva la versione. Viva la versione. Viva la versione.